La situazione dei contagi è stabile sul territorio. La provincia dell'Aquila è la più colpita rispetto ad altri territori, ma per gli esperti, grazie alla vaccinazione, non si toccheranno i numeri dell'anno scorso e non c'è paragone rispetto al mese di ottobre del 2020. E questo anche secondo il primario di malattie infettive Alessandro Grimaldi. Il reparto si viaggia comunque su una media di 22 posti letto occupati. Sull'Aquila città la maggior parte dei casi riguarda bambini in età non vaccinabile e di conseguenza i nuclei familiari. Ci sono diverse classi in quarantena, ma è tutto sotto controllo per la ASL. Il focolaio di Camarda dopo un pranzo di battesima è rientrato, mentre rocca di mezzo. Il sindaco Mauro Di Ciccio ha deciso di tenere le scuole ancora chiuse perché i casi sono arrivati a 31. Qui il focolaio è partito dalla scuola dell'infanzia. È vero, la provincia dell'Aquila risulta essere più colpita, ma una situazione che non ci preoccupa, paragonata a quella dell'anno scorso, è una situazione decisamente sotto controllo. È anche vero che noi come ALSA controlliamo molto bene quello che è l'andamento epidemiologico e devo dire che i casi sono soprattutto quelli delle scuole materne e delle elementari, dovuti al fatto che i bambini non si possono vaccinare. Riusciamo comunque a tracciare tutti i contatti e quindi siamo abbastanza tranquilli in questo senso. Proseguono parallelamente le vaccinazioni, anche le terze dosi, con annesso antinfluenzale per chi vuole. Le vaccinazioni stanno andando molto bene anche per quel che riguarda i giovani, le fasce 12-14 e 15-19 anni. Fin dall'11 ottobre noi abbiamo iniziato la somministrazione dell'antinfluenzale agli over 65, ma soprattutto agli ultra-ottantenni, a cui abbiamo abbinato la terza dose di vaccinazione anti-Covid. La risposta è veramente, devo dire, eccellente. Abbiamo una grandissima richiesta e voi sapete anche che adesso il generale Figliuolo ci ha dato la possibilità di estendere questa somministrazione a tutte le categorie che vengono interessate, quindi dagli ultra-sessantenni in su. E questo è dovuto anche al numero molto elevato di vaccini che abbiamo a disposizione. L'Alza dell'Aquila si è distinto, ma devo dire tutta la regione Abruzzo si è distinta in quella che è la risposta della vaccinazione anti-Covid e si sta ugualmente distinguendo per quello che riguarda la vaccinazione contro l'influenza. Siamo molto molto soddisfatti. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni ordinarie, quelle normali, chiaramente nel periodo Covid, soprattutto per i bambini, ha determinato un certo ritardo, ma attualmente stiamo recuperando proprio perché è importantissimo che tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate vengano effettuate.